a mesi di tech different siamo qui con il nostro unboxing di asus zenfone 6 top di gamma di quest'anno dell'azienda andiamo ad aprire la confezione troviamo subito questa confezione qualche già ci dà un'indicazione flip camera andandola ad aprire troviamo la spillettina per il vano sim i vari manuali di istruzione la garanzia e soprattutto troviamo una cover in plastica rigida trasparente qui troviamo il dispositivo che andiamo subito a togliere eccolo qua andiamo a sfilarlo ovviamente un'occhiata molto rapida al dispositivo come possiamo vedere display da 6,4 pollici qui andando ad aprire a parte inferiore troviamo le auricolari che hanno il jack perché il telefono jack le gommine il cavo di alimentazione per la ricarica usb normale usb di tipo c ed infine abbiamo la presa a muro bella grossa con l'ingresso usb femmina come possiamo tranquillamente vedere bene direi che per questo unboxing è tutto di asus zenfone 6 torno a ripetere qui ci sono le cose che abbiamo trovato all'interno con la relativa cover in plastica che troviamo già all'interno quindi non dovremo andare ad acquistare una cover qualora ne avessimo bisogno perché già una ce l'abbiamo ovvio che se vogliamo prendere un'altra cover diversa più personalizzata andremo ad acquistare bene per questo unboxing è tutto vi ringrazio e vi rimando al nostro prossimo video